Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su Iva Gamesport Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video Andiamo ragazzuoli a parlare, anzi vado a fare la mia reazione ai sorteggi di Champions Europa e Conference League Ancora purtroppo non sto molto bene, infatti vi mostro ancora così Però nei prossimi giorni, forse da mercoledì, a giovedì, nei video di martedì Anzi può essere anche nei video di martedì, potrei tornare normale Non sto ancora molto bene, voglio dimostrare a voi che sto molto bene Però onestamente ancora non è così, infatti anche questo video non durerà chissà quanto Però questa qua è la mia reazione ai sorteggi per i quarti E praticamente che il tabellone tennistico per la semifinale di Champions Europa e Conference League Purtroppo è andata molto male alle italiane, purtroppo l'Inter non c'è Andiamo un po' a vedere, però come sempre prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale Attivando la campanella per non perdere i prossimi contenuti Iscrivendovi e attivando la campanella quanto pubblico video vi spunta una feed, una notifica Basta premere e siete subito qui all'interno del mio contenuto Ragazzuoli vi raccomando iscrivetevi così mi supportate veramente al massimo E soprattutto non vi vedete nessun contenuto Tutti i contenuti e tutti i video escono tutti i giorni qui ragazzuoli Su Ivan Gaming Sport alle ore 13, all'ora di pranzo E soprattutto non vi vedete nessuno shorts con notizie di mercato, post match e tantissime altre news Che escono tutti i giorni dalle ore 10 alle 19 di sera Fatte queste premesse ragazzuoli veramente sono stanchissimo già solo per questo Fasi gironi, anzi più che fase gironi Passiamo ai playoff di UEFA Champions League E partiamo subito con il sorteggio di UEFA Champions League 2023-2024 Partiamo dalla prima parte Facciamo che qui c'è la parte sinistra del tabellone Che vi vado a dire i due quarti di finale E da questa parte, quelli di dopo, sarà la parte di destra del tabellone Partiamo subito Parte di sinistra Primo quarto di finale Atletico di Madrid contro Borussia Dortmund Questa tira sarà molto 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 bella E attenzione perché potrebbe essere veramente una sfida molto molto carina L'andata la giocherà l'Atletico Madrid in casa E il ritorno lo giocherà il Dortmund Partita molto tosta però sarà anche molto molto divertente Però è una partita meno bella rispetto agli altri tre quarti di finale Secondo quarto di finale e ultimo per questa parte Partita di tabellone PSG contro Barcellona Questo è molto molto bello Secondo me invece passerà qui il Paris Saint-Germain Che è leggermente più fotto da quello che ha dimostrato sia negli ottavi che nei gironi Per il Barcellona è sempre Barcellona La prima partita in casa lo giocherà il PSG Il ritorno sarà a Barcellona in Spagna Nella parte invece sinistra e destra chiedo scusa ragazzoli Sarai ancora più belli I quarti di finale sono ancora più belli Come Arsenal contro Bayern Monaco Partita secondo me super 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 top E invece passiamo all'altra partita che sarà praticamente Real Madrid contro Manchester City Una finale anticipata ai quarti di finale Real Madrid che alla prima giocherà in casa al Santiago Bernabeu Il Manchester City che giocherà il ritorno in casa propria alla T8 Stadium Secondo me qui favorito un po' il Manchester City E invece il Narsen Bayern Monaco Che non ve l'ho detto ovviamente Favorito il Bayern Monaco Passiamo invece all'Europa League Molto molto belli invece ragazzuoli i quarti di finale di Champions Molto 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 belli Molto equilibrati Tranno ovviamente è molto equilibrato però meno spettacolare secondo me Atletico Madrid da Borussia Dortmund Però è un ottimo partito tutte quante E passiamo ai quarti di finale di Europa League 2023-2024 con la primissima partita Che secondo me è quella meno spettacolare onestamente Però ovviamente poi vedremo E sempre tabellone Prima le prime due che vi dico sono nella tabellone questo qui E le ultime due nell'altro tabellone Prima partita del tabellone di sinistra Benfica contro Marsiglia Partita meno bella secondo me sarà rispetto alle altre tre Però comunque una delle due andrà a sfidare Che hanno nello stesso tabellone l'altro quarti di finale Dove c'è la prima italiana impegnata Cioè Atalanta contro Liverpool Veramente molto sfortunata in questo caso L'Atalanta per abbeccare il Liverpool Perché è la migliore al momento in Europa League Il Liverpool che dovrebbe avere secondo me un po' tutto facile L'Atalanta non è facile da battere Però poi una tra Benfica e Marsiglia in semifinale Dovebbe essere molto easy E quindi il Liverpool veramente lo vedo in futuro Veramente molto molto vicino già in finale Invece è tutto da scrivere nell'altra parte di tabellone Dove abbiamo un derby tutto italiano Cioè Milan contro Roma Al primo quarto di finale dell'altro tabellone Quello di destra Milan contro Roma Partita molto equilibrata Un 50-50 Secondo me doveva passare la Roma E passerà la Roma E nell'altro ragazzoni Chi passerà tra loro due Giocherà contro una tra West Ham E Leverkusen Che ha vi ricordo ancora la striscia di imbattibilità Adesso è una Leverkusen che è molto forte Però ha dimostrato poco in Europa League Soprattutto perché stava perdendo Anche fino all'altra volta contro il Carabag Poi sono passati grazie ai minuti di recupero Grazie alla doppietta dei minuti di recupero Proprio di Schick Quindi questa qua ragazzola Anche qui Leverkusen potrebbe arrivarsi in finale Per attenzione a Roma e Mila Che potrebbe veramente mettere molto in difficoltà O in Leverkusen anche in West Ham Potrebbe passare Attenzione Mai dire mai Passiamo invece in Conference League Dove qui abbiamo anche un'italiana Vi ricordo che in totale sono passate Quattro squadre italiane Nei quarti di Conference Ed Europa League Zero in Champions League Purtroppo con l'uscita dell'Inter Contro l'Atletico Madrid Mercoledì sera E partiamo subito Sempre da questa parte Le prime due Da quest'altra le altre due Partiamo dal tabellone di sinistra Aston Villa contro Lille Che sarà il quarto di finale più bello Secondo me sarà il quarto di finale più bello Della Della Conference League Praticamente anche questa è una finale Anticipata ai quarti di finale E chi vincerà tra Aston Villa e Lille Affronterà una tra Olympiacos E Fenerbahce Due ottime squadre Secondo me passerà qui Il Fenerbahce Nell'altra secondo me passerà la Aston Villa Ma vedremo ragazzuoli Nell'altra parte di Girone Invece andranno a giocare Club Rouge contro Pauk Due delle Anzi Tre Vedete c'erano tre squadre In cui la Fiorentina doveva affrontare Che era Club Rouge, Pauk e Victoria Pilsen Infatti oltre Club Rouge e Pauk Che si affronteranno ai quartieri di finale Ci sarà la Fiorentina Che affronterà il Victoria Pilsen Per la Fiorentina dovrebbe essere Alla fine da tutto facile Molto probabilmente arriverà anche loro in finale Perché battere Victoria Pilsen Non dovrebbe essere nessun problema Ma neanche nessun problema Dovrebbe avere la squadra di Italiano A vincere contro una tra Club Rouge e Pauk In un'eventuale semifinale Dovrebbe essere molto più complicata Invece in caso in un'epotetica finale Perché sicuramente Secondo me ci sarà una tra Aston Villa e Lille E molto probabilmente ci sarà la Aston Villa Vi ricordo che la Conference League Questa qua è la terza Conference League nella storia La prima l'ha vinta Morigno La Roma di Morigno L'anno scorso la Fiorentina Arrivò in finale contro West Ham Però alla fine No West Ham Che è West Ham No Chi cazzo era l'anno scorso in finale? Ora un attimo subito ve lo dico Perché non me lo ricordo Mi sembra Fiorentina Conference Finale Vi dico subito In live È giusto West Ham Infatti Dove segnò Bowen Al novantesimo Ragazzuoli Ok Quindi West Ham Che vinse l'anno scorso Praticamente Però sempre Per una italiana Arrivò in finale E arriva in finale Di questa competizione E secondo me Quest'anno La Fiorentina Potrebbe avere tutte le carte regola Perché potrebbe andare O un 2-1 L'Inquilterra O un 2-1 La Serie A Chissà Chissà Può essere che passa il Lille E vince contro tutte Il Lille Può essere che Vittorio Eppes Batta la Fiorentina Chissà ragazzuli Però comunque Per le italiane Potrebbe essere Soprattutto per la Fiorentina Un'ottima occasione Per vincere Molto ovviamente Sarà anche questa qua L'ultima stagione Per Italiano Nella Nella panchina Della Fiorentina Ditemi qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Purtroppo Le italiane Hanno avuto Molta molto molto sfortuna Soprattutto l'Atalanta A capitare nei quarti di finale Contro il Liverpool Che era la peggiore Che potesse capitare Secondo me era meglio E bagliare l'Evercruz Anche il Liverpool E siamo stati sfortunati Anche tra una Roma e il Liverpool E Roma Scusatemi E Milan Che giocheranno contro Perché Ve lo dico Perché praticamente Almeno potevano passare Forse Anche due italiane Perché la Tanta Non passerà Non era mai Potevano passare due italiane In semifinale Invece secondo me Ne passerà solamente una No secondo me Ne passerà solamente una Perché una la passerà Sicuro che una Tra Mila e Roma Invece l'Atalanta Non passerà Ne ore né mai Secondo me ovviamente Non mi vogliate Tifosi dell'Atalanta Secondo me è così La fine dirà Che dovrebbe passare Secondo me Senza nessun problema Determinico sotto Nei commenti Cosa ne pensate Sono stati bellissimi Secondo me Questi sorteggi Noi ragazzoli Ci vediamo Dretanto domani Qui su IvanKivspot Alle ore 13 Con un nuovissimo video E niente ragazzi Ciao ciao Anzi questo video Ha durato anche 10 minuti Ciao Ciao